Ci troviamo con Andrea Bacci per presentare il suo libro Terra 2.0, l'apparizione. Un libro che ha avuto anche dei riconoscimenti a livello territoriale. Com'è nata innanzitutto questa pubblicazione? È nata come ovviamente tutti i romanzi, da una riflessione che ho fatto con me stesso. E quindi è un viaggio innanzitutto che ho fatto dentro di me. E poi ho riportato su una storia, un racconto, un romanzo che è considerato un romanzo di fantascienza, ma comunque che ha dei riflessi anche sull'aspetto spirituale, sul rapporto tra scienza e fede. E ho riportato in questa storia quello che pensavo, utilizzando anche degli stratagemmi letterari come una misteriosa narratrice che accompagna il lettore durante tutta l'avventura dei nostri personaggi. Quali sono i messaggi principali che intendi portare attraverso questo volume? Fondamentalmente sono tre, sono molto attuali. Il primo è il rapporto tra la tecnologia e l'uomo, quindi questa commistione che è sempre più avanzata tra l'uomo e la macchina. Il secondo è il rapporto con l'empatia, che pare, insomma, stia facendo un passo indietro, diciamo così. E poi il terzo e non meno importante è il tema del paradiso. Temi quindi importanti anche dal punto di vista, diciamo, della fede. Sì, sì, sono importanti e soprattutto spero che il lettore possa, attraverso questo racconto, questo romanzo, possa apprezzare anche l'importanza di immaginare un mondo diverso, visto che attualmente stiamo vivendo quasi, come dire, quasi in un sogno, diciamo che il confine tra quello che è reale e quello che è surreale sia un po' sfumato. Quindi non è del tutto fuori luogo immaginare in modo positivo altri mondi. Quindi ritroviamo in questo libro anche degli aspetti, diciamo, un po' che ci riportano a quella che è l'attualità che stiamo vivendo oggi. Sì, 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 ci riportano a questa attualità. Tra l'altro effettivamente è surreale, ho fatto molte presentazioni l'anno scorso e quando ancora tutto questo non era successo. Quindi adesso mi trovo a dover raccontare qualcosa che in parte è già scritto, insomma. Ha ricevuto anche delle importanti menzioni, diciamo, anche qui sul territorio. Sì, premio letterario casentino, il riconoscimento prima con menzione d'onore come inedito e poi successivamente ho pubblicato con casa editrice Elicon come edito l'anno successivo.